Cari appassionati di Endless Love, ecco cosa vi attende nelle puntate che andranno in onda da lunedì 27 a mercoledì 29 maggio. Immaginate un silenzio rotto da un grido lontano, un rapimento misterioso che coinvolgerà Nian, avete capito bene, un complotto avvolto in ombre sinistre e segreti. Nel frattempo, in una svolta di eventi che potrebbe ridisegnare le alleanze e i destini, a chi, con occhi imploranti, supplicherà Kemal di unirsi in matrimonio con la sua adorata nipote. Ora, torniamo al cuore della trama. Kemal, dopo un acceso confronto che lascia l'aria vibrante di minacce non dette, si dirige con passo deciso verso la dimora di Tufan. Ma cosa trova al suo arrivo? Emir, il volto dell'innocenza forzata, lo attende con parole di negazione che non fanno altro che intrecciare ancora più fitto il mistero dell'omicidio di Karen. L'aria si carica di elettricità quando Emir lancia un avvertimento glaciale. Cessa le tue indagini o Tariq pagherà il prezzo. La rabbia di Kemal esplode, una fiamma pronta a consumare ogni ostacolo. Ma Tufan, rapido, gli punta una pistola alla nuca, un gesto che parla più di mille parole. In un ultimo gesto di sfida, Emir posa l'ultimatum davanti a Kemal. Fermati ora, o Tariq sarà trascinato in questo abisso oscuro. Ma Kemal, con gli occhi ardenti di chi non si arrende, lancia una minaccia che potrebbe distruggere i castelli di bugie costruiti da Emir. I segreti sono dappertutto, pronti per essere svelati. Kemal, con il cuore pesante e la mente turbinante di dubbi, lascia la dimora di Tufan. Kemal, con la determinazione di chi è spinto dall'amore fraterno, chiama Zeir. La sua voce è ferma, le parole chiare. È convinto che Tariq sia innocente, un pedone in un gioco crudele orchestrato da Emir. L'intreccio di menzogne si dipana, rivelando che dietro l'ombra del sospetto c'è la mano invisibile di Emir, un burattinaio che muove i fili nell'oscurità. Nel frattempo, Tufan si trova sempre più schiacciato sotto il peso di un ruolo che sta diventando insostenibile, un mantello di responsabilità che lo sta soffocando. L'indomani, la tensione tra i fratelli raggiunge il culmine quando Kemal cerca di avvertire Tariq. Il suo unico desiderio è proteggerlo dalle grinfie di Emir. Ma Tariq, amareggiato e cieco di rancore, respinge le parole di Kemal con un'indifferenza che sa di tradimento. Quando Banu, curiosa, lo interroga su ciò che Kemal voleva, Tariq, con un velo di tristezza negli occhi, risponde che Kemal è solo geloso, non riuscendo a vedere che ora lui non ha più bisogno del suo aiuto, ora che è cresciuto e si è affermato come uomo di spessore. Nella casa dei Setsin, una scena apparentemente tranquilla si svolge mentre Ozan porta la colazione nella sala da pranzo vuota. Informa Zainep che tutti sono usciti presto, lasciandoli soli. Ma Zainep, la sua attenzione è altrove, persa in riflessioni su un matrimonio che sembra tutto tranne che felice, quello tra Emir e Nian. Lei sa, nel profondo del suo cuore, che sotto la superficie di quella unione si nascondono verità oscure. Nian si trova a casa di Leila, intenta ad aiutare l'amica a fare i bagagli, mentre il destino sembra sussurrare parole di partenza. I ricordi si accumulano intorno a loro, palpabili come gli oggetti che lentamente scompaiono nelle scatole. Kemal arriva poco dopo, il suo sguardo è carico di buone intenzioni, ma l'atmosfera si fa tesa quando i vecchi sentimenti vengono risvegliati da un fuoco, che non è ancora spento. La gelosia si insinua nel cuore di Nian, quando vede Kemal rispondere alle continue chiamate di Asu, un nome che risuona come un campanello di allarme nelle sue orecchie. Sentendosi sopraffatta, Nian decide di andarsene, ma mentre esce in Nian, viene seguita da due figure losche, che da giorni la pedinano, scoprendo infine la posizione del suo ufficio. Intanto, in un gioco di fiducia e sospetto, Emir si confida al telefono con Taric, esprimendo dubbi su Tufan. Gli chiede di tenere gli occhi aperti, dimostrando una fiducia in Taric che lo fa sentire valorizzato e importante. Taric, gonfio di orgoglio, accetta l'incarico, determinato a non deludere le aspettative riposte in lui. Zainep si muove furtivamente, entrando nella stanza di Emir. Le sue mani cercano tra le ombre, forse alla ricerca di verità nascoste o prove di menzogne non ancora svelate. Nel frattempo, Vildan, accompagnata da un architetto, arriva alla sua nuova dimora. È decisa a cancellare ogni traccia del passato, mentre l'architetto prende nota delle sue istruzioni, pronto a trasformare il vecchio in qualcosa di irriconoscibile. Da una finestra, Leila e Kemal osservano la scena, le loro espressioni si trasformano in maschere di disappunto e determinazione. Uscendo, affrontano Vildan con voce ferma. Leila, con gli occhi che brillano di sfida, dichiara che non permetterà che la casa dei suoi genitori venga violata. La tensione tra le sorelle è alta come una corda tesa al limite. Vildan, con una freddezza che taglia come il vetro, risponde con una minaccia. Oggi stesso dovrà abbandonare la casa, o tornerà con la polizia per far valere le sue decisioni. Dopodiché se ne va. Leila, devastata dall'ultimo confronto con sua sorella, si abbandona tra le braccia di Kemal, cercando conforto. Kemal, con gentilezza, le assicura che non la lascerà affrontare da sola il tumulto che la circonda. Promette di aiutarla a terminare gli scatoloni e di portarla a casa sua per offrirle un rifugio sicuro. Ma proprio in quel momento di promesse, il telefono di Kemal squilla. È Asu, la sua voce intrecciata al pianto, che lo chiama a sé per una situazione d'urgenza. Con un cuore diviso tra due doveri, Kemal saluta Leila, promettendo di inviare una ditta di traslochi e di tornare per lei più tardi. Nel silenzio che segue, Zainab, ancora immersa nell'atmosfera riservata della stanza di Emir, scopre una foto incorniciata che ritrae Emir. Con un gesto quasi reverenziale, la solleva, osservandola attentamente, poi la appoggia, ma sbaglia la posizione. La sua presenza lascia tracce sottili ma tangibili. Poco dopo, Emir, rientrando, percepisce subito l'intrusione. Con un sospetto che si trasforma rapidamente in certezza, si dirige nella stanza di Zainab, accusandola di aver oltrepassato i confini di quel che è suo. Zainab, tuttavia, non si lascia intimidire. Con una calma che sfida l'autorità di Emir, gli fa notare che non dovrebbe affidarsi a mere fotografie per tenere in scacco il suo matrimonio con Nian. Con una fermezza che rispecchia la sua determinazione, lo sfida a considerare cosa accadrebbe se Nian vedesse quelle foto. Emir, visibilmente scosso, le risponde che non dovrebbe giocare con il fuoco, un avvertimento velato di pericolo. Ma Zainab è irremovibile, dichiarando che non si fermerà finché non vedrà il matrimonio di Emir disintegrarsi. Emir, la tensione che gli scorre nelle vene come veleno, se ne va, lasciando dietro di sé un silenzio carico di minacce. Nian, nel suo studio, sente il peso della distanza con Kemal. Incapace di scacciare il tormento che le stringe il cuore, decide di chiamare Kemal, sperando di trovare in lui un faro di comprensione. Ma Kemal, consumato dalla situazione urgente che lo vede accanto a una disperata Asu, che gli dichiara che Aki è in fin di vita e la chemioterapia non sta facendo effetto, vede la chiamata di Nian, ma, travolto dagli eventi, decide di non rispondere. Nian, abbandonata a un crescente tumulto interiore, lascia un messaggio in segreteria, la voce carica di frustrazione e un velo di tristezza. Lo accusa di ignorarla deliberatamente, di trattarla come se fosse un fastidio da cui liberarsi. Il suo cuore batte all'impazzata mentre una sensazione di abbandono la avvolge. Ma il pericolo è più vicino di quanto immagini. Gli stessi uomini che la pedinano da giorni, figure sinistre e minacciose, fanno la loro mossa, entrando nell'edificio. Nian li scorge e il terrore si impossessa di lei, cerca di barricarsi, ma la porta cede alla sua ansia. Con il telefono ancora in mano, inizia a urlare, tentando disperatamente di descrivere gli uomini mentre l'adrenalina le scorre nelle vene. Ma è troppo tardi, la raggiungono, la sopraffanno con una forza brutale e la narcotizzano. Il telefono scivola dalle sue mani tremanti e cade a terra, registrando gli ultimi suoni confusi di una lotta disperata. Il destino di Nian ora pende a un filo, la sua sicurezza infranta da mani oscure, mentre Kemal rimane ignaro del pericolo che sta divorando la donna che ama. Mentre il destino di Nian si dipana in un oscuro edificio abbandonato, la vita di Kemal si intreccia inesorabilmente con quella di Aki e Asu, in una casa avvolta da un'aura di malinconia e addii inconventi. Con la sincerità che nasce dal bisogno disperato di aiutare, Kemal interroga Aki sulla sua malattia tenuta segreta, promettendo di trovare una soluzione, un barlume di speranza, in un tunnel che sembra non avere uscite. Aki, con la rassegnazione di chi ha accettato il suo destino, ammette che non c'è più nulla da fare, che ha imparato a convivere con l'ineluttabile. Chiedendo ad Asu di lasciarli soli, Aki cerca un momento di solitudine con Kemal, forse per condividere pensieri non detti o per prepararsi a lasciare questo mondo a modo suo. Nel silenzio di quelle mura, le parole non dette risuonano più forte di quelle pronunciate. Nel frattempo la trama si complica a casa Sezin. Tarik, portatore di documenti e messaggi, si trova faccia a faccia con Zainep. L'indifferenza con cui Tarik la tratta è un muro che Zainep non riesce a scalare. Le parole di Tarik sono chiare. Ha fatto la sua scelta, un sentiero che lo allontana da lei. Emir, testimone silenzioso di questo scambio carico di emozioni, si avvicina a Tarik per scusarsi, riconoscendo il dolore di un incontro non voluto. I documenti vengono firmati, le loro strade si separano ancora una volta, ma le cicatrici rimangono. Nel frattempo l'incubo di Nyan prende una piega ancora più sinistra. Trasportata in un luogo desolato, il freddo della realtà si scontra con il calore di un sogno. Nel suo delirio vede Kemal, un'illusione di felicità che si spezza quando lui le dice di svegliarsi. Il suo risveglio è un grido nel silenzio, un appello disperato al nome di Kemal. Si ritrova in un mondo estraneo, sotto gli occhi di due uomini che la minacciano con la loro presenza. La sua domanda, carica di paura e sfida, è un eco nel buio. «Cosa volete da me?» Le parole sono un baluardo fragile contro il terrore che cerca di invaderla. Aki, con la voce incrinata dalla malattia e dalla tristezza, si rivolge a Kemal con un'ultima richiesta, un desiderio che sa di lascito e di responsabilità. Vuole affidargli la cura di sua nipote Assu e il futuro della sua azienda, convinto che solo Kemal possa guidarli verso un domani prospero, ma il cuore di Kemal è altrove e le parole di Aki lo spingono in un angolo di verità che non può più evitare. La confessione scivola via come una lama, Kemal ammette di amare un'altra donna. Aki pronuncia il nome di Nian, riconoscendo il tormento e l'amore che ancora bruciano nel cuore di Kemal. Con una durezza velata di compassione, gli ricorda che Nian non gli appartiene più, che il loro sentiero insieme sia già diviso e che non troveranno mai più l'uno l'altro come amanti. La rivelazione cade su Kemal come un peso inaspettato. Fuori dalla soglia, Assu, testimone involontaria di questa confessione, sente il proprio mondo frantumarsi sotto il peso delle parole di Kemal. Scopre che non c'è posto per lei nel cuore di quest'uomo, che le speranze che forse aveva coltivato sono destinate a rimanere inesaudite, la sua reazione è un silenzio carico di lacrime, un dolore che non trova conforto nelle parole. Kemal, conscio del dolore che ha inflitto, afferma con fermezza che non può sposare Assu solo per adempiere un desiderio, non può costruire una vita su una menzogna, non può offrire false speranze quando il suo cuore appartiene ad un altro amore, un amore forse impossibile. La sua decisione è chiara, non può e non vuole prendere in mano il futuro di Assu e dell'azienda di Aki. Con un misto di rispetto e rimpianto, chiede perdono a Aki per il suo rifiuto, per la promessa che non può mantenere. Quando esce dalla stanza, si trova di fronte a Assu, i suoi occhi pieni di lacrime e una disperazione che le stringe il viso. Con uno sguardo che trasmette tutto il dolore di un cuore spezzato, si allontana da lui, lasciando Kemal a confrontarsi con le conseguenze delle sue scelte, mentre l'eco delle parole non dette continua a risuonare nei corridoi vuoti. Emir si avventura nello studio di Nian, ora stranamente vuoto e silenzioso. L'assenza di Nian pesa nell'aria come una presenza fantasma. Yasmin, che arriva nello studio poco dopo, viene intercettata da un Emir visibilmente turbato, che la interroga su dove possa essere sua moglie. Yasmin, con un briciolo di irritazione nella voce, suggerisce che Nian potrebbe semplicemente essere uscita a prendere un po' d'aria. Ma Emir, con un'intuizione acuta e un senso di allarme crescente, non si accontenta di questa spiegazione superficiale. Qualcosa gli dice che la situazione è molto più grave di quanto Yasmin creda. Nel frattempo, Kemal si trova in auto, i pensieri turbati dal recente confronto con Aki. Mentre le lacrime gli velano gli occhi, la chiamata di Leila squarcia il silenzio, portando con sé un barlume di normalità. Leila è in attesa, sperando che Kemal mantenga la promessa di venirla a prendere. Dopo aver salutato per l'ultima volta la casa che l'ha vista crescere, sale in macchina con Kemal. Il viaggio diventa un'occasione per discutere della malattia di Aki e della sua proposta di prendere le redini dell'azienda. Kemal, però, trattiene per sé il dettaglio più scottante della conversazione con Aki, la richiesta di sposare Azu. Leila, percependo forse un non detto nei silenzi di Kemal, lo incalza su quali siano i suoi piani futuri. Kemal, con un misto di determinazione e disperazione, rivela che la sua priorità è trovare un modo per aiutare Aki a guarire. Annuncia che si consulterà con i medici per avere un quadro chiaro della situazione clinica del suo capo. Leila, sempre solidale, gli esprime tutto il suo appoggio. Quando Kemal e Leila arrivano a casa, trovano Emir seduto fuori, l'aria carica di preoccupazione. Lui è lì perché cerca sua moglie, Nian, ma la delicatezza della situazione lo spinge a non ammetterlo apertamente. Dopo un breve confronto con Kemal e non avendo trovato ciò che sperava, Emir si allontana rapidamente e tenta di chiamare Nian, ma il suo telefono risulta spento. Un altro cattivo presagio che si aggiunge ai suoi crescenti timori. Emir riflette sulle parole di Zainep, che aveva avvertito di come Nian potrebbe reagire se scoprisse le foto di lui con un'altra donna. Questo pensiero lo spinge a sospettare che la sorella di Kemal possa aver parlato con sua moglie, forse spingendola a fuggire. Nel frattempo, la tensione si intensifica per Kemal quando, dopo aver ascoltato il messaggio lasciato da Nian nella segreteria telefonica, capisce la gravità della situazione. Il terrore nella voce di Nian, mentre descrive gli uomini che sono entrati nel suo studio, non lascia spazio a dubbi. È stata rapita. Kemal, sentendosi responsabile e spinto dall'urgenza, condivide la registrazione con Leila e poi chiama Zair, chiedendogli di raggiungerlo immediatamente. Con il cuore pesante, lascia Leila a casa e parte di corsa, determinato a fare tutto il possibile per trovare Nian. Dall'altra parte, Emir, accecato dalla rabbia e dalla frustrazione, si confronta con Zainep, sospettando che abbia parlato con Nian. Nonostante lei neghi ogni coinvolgimento, Emir è lontano dall'essere convinto. Lasciata la stanza di Zainep, decide di agire. Informa Vildan della situazione e chiede alla domestica Efsan di chiamare la polizia, segnalando la scomparsa di Nian come un possibile rapimento. Parallelamente, Kemal è tormentato dai rimorsi per non aver risposto alla chiamata di Nian, una decisione che ora pesa sulla sua coscienza. In un momento di disperazione, riceve una chiamata da Salih, a cui confessa tutto. Salih, senza esitazioni, promette il suo supporto incondizionato, dichiarando che non lascerà Kemal da solo in questo momento critico. Anche se Kemal si sente perso, non sapendo da dove iniziare le ricerche, giura con determinazione che salverà Nian, costi quel che costi. Nel cuore della casa Sezin, l'atmosfera è densa di tensione e preoccupazione. Emir, già agitato dalle circostanze inquietanti, riceve una chiamata che si rivela un fulmine a ciel sereno. Al telefono, la voce di Tanner, il marito della defunta Karen, risuona con un freddo disprezzo. Rivela di essere il cervello dietro il rapimento di Nian, gettando Emir in un vortice di disperazione e rabbia. Tanner, con una calma velenosa, pone le sue condizioni. Emir deve agire per liberarlo dalla prigione immediatamente, non l'anno seguente come previsto, ma subito. Gli ricorda che il giorno seguente verrà trasferito in un altro carcere, aumentando ulteriormente la pressione su Emir per agire velocemente. Poi, con un clic sinistro, la chiamata termina, lasciando Emir scosso e più determinato che mai a salvare sua moglie. Senza esitazione Emir corre fuori di casa, pronto a fare qualsiasi cosa per riportare Nian al sicuro. Nel frattempo, Zeyr, Kemal e Salih sono insieme, cercando di formulare un piano di azione con i pochi indizi a disposizione. L'unico dettaglio distintivo che hanno è la descrizione di una sciarpa viola e bianca, menzionata da Nian durante la sua disperata chiamata a Kemal. Zeyr, riflettendo su questo particolare, ipotizza che uno dei rapitori possa essere un tifoso di calcio, considerando i colori della sciarpa tipici di una squadra locale. Con poche altre piste da seguire, decidono di investigare in questa direzione, sperando di trovare una traccia che li porti a Nian. Nel lugubre edificio abbandonato, la situazione per Nian diventa sempre più pericolosa. Uno degli uomini si avvicina con intenzioni chiaramente minacciose. In un istante di puro istinto di sopravvivenza, Nian reagisce colpendolo e, tentando di fuggire, le sue grida d'aiuto echeggiano nei corridoi vuoti. L'uomo tuttavia la raggiunge rapidamente e la colpisce con uno schiaffo violento. In un ultimo disperato tentativo di difendersi, Nian afferra un coltello e minaccia gli uomini, ma l'altro rapitore, quello con la sciarpa, rivela involontariamente che non devono farle del male fino all'arrivo di Tanner. Questa rivelazione conferma a Nian il mandante del suo rapimento, Tanner, il marito di Karen. Sotto minaccia, viene poi legata e costretta a sedersi su un divano, in attesa del suo destino. Emir, con un viso segnato dalla determinazione, raduna Tariq, Tufan e altri uomini per un'operazione rischiosa ma necessaria, il rapimento di Tanner durante il suo trasferimento a un'altra prigione. La missione è chiara e Tufan, insieme agli altri, è incaricato di facilitare l'azione di Tariq, assicurando che tutto proceda senza intoppi. Nel frattempo, l'alleanza tra Kemal, Zeir e Sali si fa sempre più forte mentre cercano disperatamente di trovare una soluzione per salvare Nian. La loro ricerca li porta da un uomo che potrebbe avere informazioni cruciali, il quale rivela che nel carcere potrebbe esserci qualcuno in grado di riconoscere l'uomo con la sciarpa viola e bianca. Questa informazione accende una speranza in Zeir, che decide di contattare immediatamente il suo infiltrato in prigione per ottenere il suo aiuto. Tariq, ancora con Tufan e gli altri uomini, si trova in un momento di riflessione. La tentazione di chiamare suo fratello emerge, ma poi decide di non agire. Emir, da parte sua, è sopraffatto dal dolore e dalla preoccupazione per sua moglie, e in un momento di vulnerabilità lascia che le lacrime scorrano liberamente mentre è in macchina. A casa Sezin, l'atmosfera è pesante di preoccupazione per Nian. Zainep, cercando di portare un po' di calma, tenta di rassicurare suo marito che Emir troverà Nian e lo incoraggia a riposarsi un po'. Tuttavia, la tensione tra i membri della famiglia è evidente. Vildan colpisce con commenti taglienti, causando irritazione sia in Ozan che in Onder. Onder, sentendo il bisogno di prendere una pausa da questo ambiente soffocante, decide di uscire per fare due passi. Queste sono le anticipazioni delle appassionanti puntate che andranno in onda lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 maggio. Io sono Isabella, e come sempre vi ringrazio per aver visto questo video, e se volete continuare a seguire questa bellissima soop, scrivete qui sotto, sì. Vi ricordo di iscrivervi al canale e mettere un bel like al video.